Il Comune di Vidracco è una delle tre amministrazioni su cui insiste il territorio dei Monti Pelati. La torre alle mie spalle è il simbolo del Comune di Vidracco perché è nel nostro gonfalone, quindi è un simbolo riprodotto, presente nella vita del Paese da tanti punti di vista. Il rapporto dell'amministrazione con il parco è volto soprattutto alla sua promozione, alla sua valorizzazione e divulgazione perché siamo convinti che un parco sia diverso da un museo. I musei sono dei luoghi importanti dove si racconta la storia, qui oltre a mostrare il passato ci si trova davanti a qualcosa di vivo che è attuale, che si trasforma e quindi è importante poterlo viverlo, poterlo conoscere. Come Comune abbiamo un progetto che presto sarà realizzato, che ci è stato finanziato che è volto a rendere accessibili dei sentieri sui Monti Pelati per le persone non vedenti. In questo modo anche la fruizione di cui parlavo diventa una fruizione estesa, diciamo in senso più ampio a tutti.